Siamo alla seconda edizione perché l'anno scorso si sono già svolti con notevole successo e una grossa partecipazione di atleti. Quindi la gara si svolge principalmente in località Baia Flaminia dove ha il suo cuore, la sua zona cambio degli atleti e da dove poi si alterneranno le tre frazioni che compongono la gara. Si inizia con la prima frazione podistica di 10 km su un percorso di 5 km da ripetere due volte. Il percorso si snoda tra Lungofoglia e la strada dei due porti. Si ripete due volte la prima frazione per poi continuare con la frazione ciclistica. La frazione ciclistica si sviluppa su un percorso di 40 km che si snoda tra la strada panoramica del Monte San Bartolo e un tratto di strada adriatica, strada statale. Quindi si ritorna a Baia Flaminia dove c'è la classica zona cambio e si riparte per la terza frazione conclusiva con un solo giro da 5 km di corsa di nuovo. Il tutto inizia alle 8 e mezza con la partenza della prima batteria femminile e poi dovrebbe concludersi entro mezzogiorno al massimo per tutta la manifestazione intera. La viabilità è stata controllata per garantire la sicurezza agli atleti lungo i percorsi e supportata da una serie di percorsi alternativi che sono consultabili sul nostro sito internet dove poi ci sono tutte le indicazioni con gli orari, le chiusure e gli stessi percorsi alternativi. Qual è l'età media dei partecipanti? Una domanda molto interessante perché oltre ad assegnare il titolo di campione italiano assoluto verranno assegnati anche i titoli di campione italiani age group nel senso che ci saranno delle apposite classifiche per categorie di età che vanno di 5 anni in 5 anni a partire dai ragazzi che hanno 20 anni. e quindi fino all'anno scorso avevamo un ultraottantenne che ha portato a termine la sua gara con un festeggiamento poi da parte di tutti perché meritava. È una manifestazione che ospitiamo con orgoglio, siamo a città della bicicletta, siamo una città che vuole correre, quindi un binomio perfetto che si racchiude all'interno del duathlon. Aspettiamo tanti sportivi nella nostra città, è una competizione che si svolgerà in uno dei luoghi più belli della nostra città, Baia Flaminia, è il Parco San Bartolo. Uniamo sport e turismo, un binomio perfetto che negli anni abbiamo sempre più promosso.